Appola, come? Ah, appola, che sei sordo, che siete in attributi handicappati? A come atrocità, W come terreno del mondo è tragedia, I come il di Dio, è un luogo di sangue, e A come adesso vengono a distrarci le cose. A come adesso vengono a distrarci le cose. C'è la campana, proprio a sottopera, e ragazzine, perché l'ha andato, la buonasera, e poi l'ha andato. Rifacevano l'amore, poi la spia, adesso vengono a polizia, rifacevano l'amore, poi la spia, adesso è comissario di polizia. L'una, 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 che fa la spia, ma c'è ancora tanto e non la via. Sono più bella, mori in cariera, rischiava la piaccia e la comprenera. Buonasera, buonasera, buonasera. Buonasera, buonasera. Buonasera, buonasera, buonasera. Grazie! Siamo quasi al duchis in football!